Buondì a tutti, sono in condizioni pietose, ma inizio qui il vlog di questa domenica 6 dicembre perché si va alla fiera del libro a Roma, più libri più liberi, al palazzo dei congressi e quindi mi sono detto, vabbè, siccome di vlog nella mia vita ne ho fatto uno, forse il caso di rimediare. Quindi adesso mi ricompongo, mi ricostruisco e ci vedremo strada facendo. Dunque siamo giunti alla fermata giusta della metro e niente, praticamente non sembra Roma, è una delle zone più moderne e risale agli inizi del Novecento e quindi questo può far capire molte cose. Stiamo per prendere Viale Shakespeare, che è molto suggestiva come cosa e io spero che girando l'angolo dovrebbe essere quello, dovrebbe essere quello lì in fondo però è ancora molto presto, io vorrei prendere un caffè, non so se sei venuto in realtà e domanda che si fanno molti uomini e niente, ci si rivedrà tra un po'. Ecco qui, le vie, devo dire, sono molto suggestive in questa zona di Roma che tra l'altro, come potete vedere, è molto in costruzione per modo di dire ma ovviamente mi sono perso. Quindi niente, adesso si procederà, vedete la sede delle poste non so se si riesce a vedere, proverò a zoomare non si è della mazza. Vabbè, niente, ci si rivede quando trovo il bandolo. Eccoci, allora quello che vedete alle mie spalle, molto Alberto Angela quello che vedete alle mie spalle è il Palazzo dei Congressi dove si terrà questa, dove si tiene questa fiera però la cosa bella che mi è capitata e che vorrei far vedere perché di queste cose ne capitano poche è di aver avuto un biglietto omaggio perché ho incrociato un signore molto gentile a cui ho chiesto informazioni e insomma per raggiungere il Palazzo dei Congressi e questo signore molto gentile a un certo punto mi ha anche detto senti, io ne ho uno in più vedete qui, sperando che metta a fuoco no, non mette a fuoco niente però dice, vabbè, biglietto omaggio insomma quindi ho svoltato la giornata e a questo punto siccome è stato molto gentile e molto carino con me io vi dico anche che mi ha dato il suo bigliettino da visita per cui se voi siete di Roma e vi serve una libreria militare perché lui tratta sostanzialmente di storie insomma di libri che riguardino appunto l'ambito militare insomma vedete questo è il biglietto da visita poi se qualcuno dovesse avere bisogno ovviamente il coglione con la moto passa adesso dovesse avere bisogno di informazioni me lo può chiedere fatta questa pubblicità ci vediamo dopo e niente, questa è l'entrata trionfale del Palazzo dei Congressi però prima vorrei farvi vedere un'altra cosa perché siamo stati sono stato fermato da una ragazza insomma che mi ha fatto vedere questo volantino che vedete usciamo dal bozzolo la disabilità non è la mia vita mi dispiace che non si veda bene www.usciamodalbozzolo.it e stanno tentando di aprire una casa editrice vedete qui spiegano tutto però insomma siccome è un progetto che mira credo a stabilire un contatto tra l'editoria e la disabilità mi sembrava una cosa interessante adesso io vado a fare il biglietto omaggio però usciamo dal bozzolo.it ricordiamocelo tutto stordo qua ecco qui mi avvio la targa grazie a tutti guarda Grazie. Bene, niente, sto tentando di raggiungere la sala Smeraldo, dove dovrebbe tenersi la presentazione del libro 1001 ricette, adesso lo ricordo, di Luisan Misseri, e niente, solo che c'è un po' di gente. Ovviamente questo è uno scorcio molto bello, però il cammino è lungo. Perché si fa presto a parlare di vino, si raccontano tante cose sul vino, ma in realtà non esiste un vino uguale ad un altro. Allora, alla fine era Messeri, Bisanna Messeri, e intanto lì in fondo c'è Sgarbi che parla. Adesso tenteremo di guadagnare l'uscita, perché non ci deve essere necessariamente una pausa a pranzo. Questa presentazione ha portato via un mucchio di tempo e mo se va a mangiare. Allora, credo sia evidente la mia incapacità nel fare i blog, ma adesso stiamo andando a mangiare, siamo alla ricerca di qualcosa e ho anche il timbro sulla mano, perché poi si potrà ovviamente rientrare senza rifare il biglietto. La presentazione del libro è stata molto bella, funestata purtroppo dalla presenza di due conduttori di Radio 2, tali Fede e Tinto, che hanno ammorbato i coglioni con la loro presenza, per carità all'inizio anche molto simpatica, poi decisamente fuori luogo, perché un egocentrismo e un narcisismo fuori dal comune. Quindi adesso mi avvierò e cercherò un posto in cui mangiare e dovrò pagare una serie di dollari. E poi rientreremo da qui, guarda qua, che è l'ingresso C, mi pare. Ovviamente io ho comprato dei libri che vi farò vedere successivamente e basta, mi trema anche la mano, per cui via. Allora, sono 6 euro, primo, secondo e contorno. E niente, mosse mani anche perché sono le due, quindi gnamma a tutti e ci si rivede dopo. Allora, sono sulla via del ritorno. Sono molto contento di questa giornata, molto stanco perché le mie gambe danno problemi, ma niente, è fatta. Sono state quattro ore molto interessanti e molto dispersivo. Questo è il problema, quindi si ha sempre il dubbio che in una parte non ci si sia stati e poi invece ci si è stati. E niente, camminando camminando, volevo dire che i libri acquistati sono stati due, di cui tra l'altro uno solo all'interno della fiera. Mi fermerò proprio su questa macchina, valorizzando la merda che c'è sopra. Uno è questo, cucina africana. E questo l'ho comprato fuori perché c'erano i ragazzi, insomma, quei loro meravigliosi abiti che mi hanno chiamato fratello bianco. E quindi io sono molto felice di questo. E poi, tra l'altro di questo qualcosa bisognerà provare, e poi questa edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, che io ho trovato meravigliosa, e insomma, 3,90 euro però è venuta a 2 euro e non so che, degli eletti alter ego. Che culo! E quindi questo è quanto. Adesso mi avvio verso casa, bisognerà recuperare la metropolitana. E niente, spesi in tutto 20 euro, 5 euro per questo libro della cucina, 2,70 euro e 80 per quest'altro, e poi la pappa. E l'ingresso, perché non essendo io venuto da solo, quel famoso biglietto omaggio è servito per me, però poi in realtà ho diviso equamente l'altro, che però con la tessera, diciamo, con il biglietto dei mezzi, ti dava diritto ad uno sconto, quindi insomma l'ingresso è venuto 5 euro, quindi 2,50 euro a capoccia. E niente, ritornerò in ginocchio da te, verso la metro, quindi ci si vede poi a casa per la chiusura del tutto. E questa edizione qui, molto figa. Io meno. Fine di questa giornata, sono molto molto contento, molto soddisfatto, molto infreddolito. E niente, ho portato a casa, anche oggi, un po' di cianfrusaglie varie, ma interessanti, il biglietto che conserverò insieme a quello dell'anno scorso, un segnalibro, qualche volantino che mi è stato dato, questo in particolar modo curato anche molto bene di una casa editrice, insomma, con le loro proposte, e poi questi due libri, che vi ho già fatto vedere, ma che vi ripropongo a chiusura del libro, perché questa edizione ne sono sempre più innamorato. E poi questo libro, invece, della cucina africana, beh, secondo me toccherà, prima o poi, fare qualche video ricetta, perché ci sono alcune cose che sono molto interessanti, e dando poi anche un'occhiata, un notato, che è stata fatta un'operazione molto interessante su questo libro. Cioè, sono stati presi alcuni ingredienti, che fanno parte della cucina africana, e che per ragioni proprio pratiche qui in Italia non si trovano, e sono state proposte delle sostituzioni valide. Quindi all'interno delle ricette, se ci sono degli ingredienti che si utilizzano, perché in Africa sono molto presenti, e da noi non ci sono, ci sono però, diciamo, le sostituzioni, quindi qualcosa che possiamo trovare facilmente anche noi. Bene, io sono felicissimo di essere stato in vostra compagnia fino a questo momento, non so quanto vadano queste cose, nel senso che io adoro parlare di libri, però mi rendo anche conto che è un mercatino, no, un po' ristretto, per esempio, soprattutto tra le persone che in questo momento mi stanno seguendo. In ogni caso, come voi sapete, io vado avanti per la mia strada, e poi chi c'è, c'è, e chi non c'è, ci salutiamo. Quindi, se vi ha fatto piacere questo video, mettete un'alluce in su, altrimenti non mettete niente, e capirò che vi ha fatto caccare. E niente, questo è quanto. Io sono stanco, adesso andrò a vedere una puntata di DuckTales, perché ci vogliono i DuckTales, chiudo e basta. Quindi, grazie per essere stato tu, tu per essere stato con me tramite questo aggeggino. Eh? Ho recuperato al volo. Ho recuperato al volo.